Bene amici, ultimissimissima, IMSS sta finalmente iniziando ad aggiornare il dettaglio pensionistico di aprile 2023. Possiamo dunque già ora verificare gli importi, le perequazioni arretrate, conguaglie addizionali, bonus, rivalutazione, senza dover attendere la pubblicazione del cedolino. Vi mostro passo passo per bene come fare, voi seguitemi con attenzione, ci sono buone e cattive notizie. Prima di partire, like, mi raccomando, iscrizione, campanone, abbonamentone, io sono Mr. Lumi. Sigla! Quindi come verificare in anticipo gli importi che saranno inseriti da IMSS nel prossimo cedolino di aprile? Beh, dovete andare sul sito dell'IMS, accedete, cercate nella barra in alto fascicolo previdenziale del cittadino, pigiate su approfondisci, utilizza lo strumento e poi nel fascicolo cercate prestazioni, pensioni, lista, pensione e qui il dettaglio. Accedete al dettaglio e vedrete dettaglio pensione 4-2023. In basso a destra trovate l'importo totalone che sarà appunto inserito da IMSS nel prossimo cedolino, cedolino che arriverà tra il 20 e il 21 come sempre. Una pensione molto attesa, quella di aprile, soprattutto dai pensionati al minimo che ancora attendono da gennaio il bonus rivalutazione che deve portare la loro minima dai 562 attuali a 571 o 600 euro per gli over 75. Noi attendevamo comunicazioni IMSS specifiche in merito, adesso possiamo andare a verificare direttamente se l'istituto si sia svegliato o se stia ancora dormendo, cosa che temo. Ragazzi, ovviamente chi abbia già ricevuto la perequazione a gennaio o a marzo non troverà né nuovi aumenti né tantomeno arretrati in questa busta. Se avete dubbi su come verificare di aver ricevuto la percentuale corretta di rivalutazione scrivetemi nei commenti e vi aiuto volentieri. Video flash, attivate la campanella così io vi avviso appena usciranno anche i cedolini delle pensioni per verificare tutto nel dettaglio, le varie voci e noi ci vediamo alla prossima. Un abbraccio, vi ringrazio, un bel like se la rassegna è stata utile. Un saluto da Mr. Lull.